La passione è nata tanti anni fa, circa 15-20 anni fa. Ho deciso di prendere la palestra con il mio socio perché siamo in due, siamo io, Alessandro e Daniele e da lì abbiamo portato avanti questo progetto e siamo riusciti dopo un paio d'anni a intraprendere questo lavoro che per noi è una cosa bellissima. È stato difficile all'inizio, poi è venuto tutto facile perché praticamente facciamo il lavoro che ci piace quindi non è stato più di tanto difficile dopo, diciamo. Si parte dalla sala pesi al bodybuilding, si è seguito da istruttori qualificati, fai dei corsi di aerobica quindi total body, total circuit, top circuit, corsi per bambini, abbiamo più di 150 bambini, danza moderna, baby plan dai 3 anni ai 10 anni, danze caraibiche, discipline tipo lo yoga, il pilates, il jazz e tante altre. Il mondo delle palestre sono sempre in continua evoluzione, quindi tutti gli anni ci saranno delle novità soprattutto a livello di corsi e a livello di attrezzature, ogni anno viene cambiato qualche cosa all'interno. I giovani con la palestra si sono sempre presentati, ci sono sempre un bel numero di giovani. La novità è che si sta avvicinando a questo mondo della palestra anche molta gente di una certa età. I giovani ci sono sempre stati, hanno cominciato a venire in palestra anche la gente dai 50 anni in su, diciamo, che prima erano loro che mancavano. Siamo qua tutti i giorni, li aspetto e possono venire a provare qualsiasi tipo di corso e sala pesi, io sono qui, io e Daniele siamo qui e li aspettiamo.